Regione Toscana, il Consiglio regionale. Regione Toscana, il Consiglio regionale. Una legge significativa che va a rafforzare il ruolo dell'autorità portuale regionale e lo fa soprattutto valorizzando le risorse umane di quest'ultima. La scelta del Consiglio regionale è stata quella di trasferire il personale attualmente in dotazione dell'autorità portuale regionale al ruolo generale della Regione Toscana, con tutti gli adempimenti conseguenti che da questo derivano, compreso il trasferimento del fondo del salario accessorio dall'autorità portuale regionale a quello della Regione Toscana. Si tratta quindi di un atto importante che vuole modificare l'attuale assetto del personale dell'autorità portuale, fatto essenzialmente da dipendenti propri e da soggetti in distacco e in comando da parte di altri enti, con personale che direttamente è riconducibile alla Regione Toscana. Un'altra significativa modifica che con questa legge si fa alla struttura dell'autorità portuale il riconoscimento del ruolo del suo segretario generale, che viene individuato quale organo dell'autorità portuale e anche quale rappresentante legale della stessa. Abbiamo discusso un tema importante che è quello che riguarda il personale dell'autorità portuale e la stessa figura dal punto di vista giuridico del segretario che fisiologicamente guida l'autorità portuale. Si tratta di due temi, in particolar modo il primo che è sempre stato all'attenzione del dibattito della comunità portuale, perché oggettivamente l'autorità portuale, che anche noi della Lega abbiamo sempre ritenuto un ente importante, però molto spesso ha avuto tutta una serie di difficoltà, tant'è vero che a più riprese abbiamo bocciato il bilancio di quell'autorità, anche perché quelle difficoltà sono nate dal fatto di una incapacità sotto il profilo del personale di rispondere alle esigenze, alle tante esigenze di un territorio importante come quello che gestisce l'autorità portuale, in particolar modo nel porto di Viareggio. La proposta di legge di oggi non sconvolge il ruolo dell'autorità portuale, motivo per cui non aveva senso da parte nostra votare contro, perché noi crediamo nel ruolo e nel lavoro e facciamo i complimenti a chi fino ad oggi ha gestito questa autorità. Non abbiamo votato a favore perché c'è un passaggio che non ci convince, che è quello che va a trasformare la figura del segretario generale in un ente interno all'autorità portuale. Siccome il segretario generale è una figura che continua a mantenere un rapporto di lavoro con l'autorità portuale, che a nostro modo di vedere è molto simile a un rapporto di lavoro subordinato, ci lascia il dubbio, una figura che al tempo stesso sia ente dell'autorità ma continui a svolgere un lavoro da subordinato. È una singolarità, in nessun'altra autorità simile avviene una roba del genere. Nelle autorità portuali nazionali addirittura c'è la doppia figura. Esiste la figura del presidente dell'autorità che è ente dell'autorità e c'è la figura del segretario generale che è un lavoratore esterno. Viabilità e treni in Toscana. Una raccolta di firme degli studenti universitari che insieme ad Italia Viva chiedono un collegamento treno tra Siena e Roma. Se ne è parlato in occasione dell'ultima seduta del Consiglio regionale con l'intervento su questo tema anche dell'assessore ai trasporti Stefano Baccelli. Sì, una grande partecipazione di studenti universitari, turisti, cittadini di Siena, della provincia che chiedono un collegamento diretto con Roma. Siena deve uscire dal proprio isolamento infrastrutturale. Oggi la regione toscana ha una grande opportunità, quella di ricevere dei treni blues. C'è un accordo con Trenitalia. Abbiamo chiesto all'assessore Baccelli di un impegno in questa direzione. Avere, se fossero possibili, quattro coppie di treni. Partire da Siena la mattina e arrivare a Roma in due ore, due ore e un quarto. È una grande opportunità, una fermata che potrebbe interessare chiusi nella metà del percorso e magari lungo il tragitto ad Asciano. E questo sarebbe un collegamento veloce. Può servire ovviamente un mezzo come quello blues perché è ibrido. Quindi può viaggiare sia su una tratta che oggi ci si viaggia diesel e sia su quella elettrica, senza che un cittadino scenda dal treno. E sarebbe una risposta a tutte le questioni che oggi noi affrontiamo in termini di transizione ecologica, energetica. E soprattutto non comporta investimenti sulla linea. Questo è un aspetto che noi vogliamo dimostrare alla regione toscana. Noi chiedevamo da tempo un grande investimento sull'infrastruttura, sull'elettrificazione. Siccome l'intervento dell'elettrificazione va nella direzione di Siena-Firenze, i lavori partiranno a breve, Granaiolo già sta partendo, in direzione nord e verso sud, mediante la tecnologia oggi questo treno ci consentirebbe di avere un collegamento che la città di Siena merita perché ha 13.000 studenti universitari, ha un bacino di turismo unico nel contesto nazionale e poi ha un collegamento importante che la Toscana del Sud deve avere nei confronti della città del capoluogo e nei confronti della capitale di Roma. Credo che Siena debba superare il proprio isolamento e su questo puoi lavorare. Ho visto già una risposta importante dell'assessorato della Toscana perché in questi giorni viene annunciato questo collegamento con Grosseto che si ripristina e poi stiamo lavorando ovviamente con l'Aggiunta perché si possa fare anche il Siena-Arezzo. Con questi tre collegamenti il Sud della Toscana e quindi Siena-Grosseto-Arezzo troverebbero una risposta importante anche al di fuori di grandi investimenti infrastrutturali. Raccolgo questa proposta molto favorevolmente. Uno perché il numero delle firme e anche il tempo ristretto in cui sono state raccolte dimostrano un consenso vero, ma due soprattutto perché mi pare una proposta molto intelligente e mi auguro anche assolutamente fattibile. Ovviamente dobbiamo attendere che mano a mano questi treni blues siano immessi sulle nostre ben 14 linee regionali, ma è una proposta che già lunedì prossimo quando avrò una cabina di regia insieme a RFI e a Trenitalia anticiperò e quindi ci saranno poi quelle valutazioni tecniche necessarie. Ma davvero mi sembrerebbe un bel modo e voglio dire anche un modo sostenibile perché i treni bus sono davvero innovativi, ne abbiamo ordinati oltre 40 a Trenitalia perché essendo treni trimodali consentono proprio l'utilizzo su linee ex diesel, su linee elettrificate, ma anche contenuti emissivi bassi perché hanno le batterie quando attraversano delle aree urbane. Quindi valuteremo davvero con serietà e con determinazione questa proposta. I tempi sono difficili quindi da prevedere. Presentata a Firenze la 27esima edizione della Toscana Gospel Festival con un calendario che tocca numerosi comuni della regione con la musica che risuona in chiese e teatri e ci accompagna fino alla fine dell'anno. Dal 1996 che siamo in giro per la Toscana abbiamo portato oltre 3.000 artisti, abbiamo fatto centinaia di concerti, decine di migliaia di persone seguono. Quest'anno la 27esima edizione vede coinvolte 12 città della Toscana di tante province, da Arezzo ad Agliana, Massacozzile, Montalcino, Montepulciano, Cortona, San Giovanni Valdarno, Torrita di Siena. Sono tante piccole e grandi città che ci ospitano in bellissimi teatri e chiese. La filosofia del nostro festival è sempre quella di portare gruppi dagli Stati Uniti quindi di favorire la conoscenza di questa profonda tradizione degli Stati Uniti che è la musica gospel afroamericana. Siamo contenti perché il sostegno della regione e del Consolato degli Stati Uniti e di tante amministrazioni fa sì che ormai questo sia diventato il festival più importante sicuramente d'Italia ma probabilmente fra i più importanti d'Europa. Si consolida una relazione importante fra la Toscana e gli Stati Uniti d'America e soprattutto una iniziativa di valenza veramente internazionale che porta la Toscana e il Consiglio regionale a promuovere una iniziativa che si svolgerà nell'ambito dei comuni toscani, 12 le tappe, inizieremo da Montalcino e non solo, ovviamente il Toscana Gospel Festival che si rinnova ormai la 27esima edizione e trova quest'anno anche l'onore di ospitare nel Palazzo del Consiglio regionale la console americana qui e questo per noi è un motivo di grande orgoglio e di grande soddisfazione. Un'iniziativa che ormai vitalizza nel mese di dicembre in tante realtà che si avvicinano alle festività natalizie e anche una forma di promozione ovviamente di natura culturale ma soprattutto di relazione fra dei popoli che come sempre hanno dimostrato di essere dalla stessa parte della storia. Questo per noi è un portante perché consueve da una relazione. Il Consiglio regionale della Toscana oggi ospita questa conferenza stampa a dimostrazione di questo grande legame. è una bellissima musica particolarmente struggente che ben si sposa con il periodo natalizio verso il quale stiamo andando e poi la cosa importante quest'anno è la presenza a questa conferenza stampa della console americana che ci rende particolarmente orgogliosi ed anche il sostegno a questa iniziativa da parte della fondazione Martin Luther King perché il Gospel Festival di quest'anno vuole anche ricordare e celebrare il famoso discorso di Martin Luther King I have the dream, cioè questo sogno che è... Si prosegue a parlare dell'alluvione del 2-3 novembre scorso con i gruppi di opposizione che chiedono una commissione d'inchiesta per far chiarezza sullo svolgimento delle attività, sulle allerte lanciate dalla regione toscana e sul percorso di soccorso che è stato intrapreso. Nel frattempo anche le province di Massa e Lucca sono entrate tra i territori colpiti dallo stato di calamità. Oggi è andata in scena una pagina forse ancora più triste di quella andata in scena 15 giorni fa quando la maggioranza e il governo di questa regione ha pensato bene di non stanziare un euro per le vittime dell'alluvione del 2-3 novembre. Oggi il Partito Democratico ha portato in aula un atto per chiedere 500 milioni di euro al Governo nazionale sulla base del nulla, sulla base di una valutazione che hanno fatto alcuni parlamentari del Partito Democratico. Esiste un atto che si chiama relazione del commissario che Eugenio Gianni avrebbe dovuto fare a quello che lui ha raccontato agli alluvionati toscani entro il 2 di dicembre. Il 2 dicembre alle 9 e 10 di mattina abbiamo depositato un accesso agli atti per avere questa relazione che avrebbe dovuto quantificare i danni. Noi siamo disponibili, eravamo disponibili a fronte di questa relazione a sottoscrivere un'impegnativa di tutto il Consiglio regionale affinché il Governo immettesse immediatamente le risorse necessarie. La relazione non c'è. Il Presidente Gianni non l'ha ancora fatta. Ora pare che abbia individuato la scadenza di 30 giorni all'11 di dicembre. Benissimo, il prossimo Consiglio sarà il 13, quindi avremo, speriamo, questa relazione. Vediamo quanti sono i danni e vediamo cosa possiamo fare, cosa chiedere al Governo nazionale. Sicuramente noi non fuggiremo dalla commissione d'inchiesta che se fatta farà sicuramente emergere quello che è stato il grande impegno del Presidente, dell'assessore, della Giunta, della Protezione Civile, dei volontari, dei tanti giovani che hanno partecipato dopo l'alluvione per cercare di soccorrere i territori, le famiglie, le imprese che sono state colpite appunto da questa emergenza. Non faremo come ha fatto questa sera il Centrodestra di fronte ad una nostra mozione che chiedeva e chiede un forte impegno al Presidente della Giunta nei confronti del Governo affinché dopo tutti gli interventi, le visite che sono state fatte e un po' di passerelle si dia effettivamente seguito a stanziare le risorse che sono necessarie per soccorrere le popolazioni e soprattutto per far ripartire le imprese perché stiamo parlando di quello che è il polo produttivo più importante della Toscana. Dopo i primi 5 milioni stanziati dal Governo non è seguito ancora nessun intervento.